Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qua a 40esima puntata della serie e stavolta mi sono ricorda e quindi puntata indietro vento, siamo anche in compagnia di un venezian Tari, ciao a tutti i fiori, ecco qua ebbene ragazzi appunto questa qua 40esima puntata indietro e ora scorsa volta 39esima puntata praticamente si è stato fatto tutto oscillato ancora drivo perché il campo l'è ancora, l'è ancora, l'è ancora, l'è ancora tanto da fare e però game è il problema che non riuscimmo a svodare praticamente VAS che cioè arrivava massa oscillato e non riuscimmo a svodarle sia con la ropa che col cut per questo vi si trova in te la pagina praticamente il cut modificato a miglio e aumenta la capienza della bena davanti il 55e mia e così adesso praticamente che amo do cut però siccome adesso va che attaccherà a essere numerosi perché adesso si è 50 ha messo Votoghin e un piantin de pi mi dirì ad andar vendere questo strafanto del bussiotto qua picueto, è andato qui più grande in modo da appunto che questa è PIR sia un mista così man nota che se si butta insomma se capi tempo non serve il cut per andare a buttare dentro si lato e non serve neanche a benetta quella picuetta che anche quella potrebbe essere anche a 22 perché praticamente game è il brasso davanti adesso visto che game è il cut fa il stesso fermentare e vasche quindi portiamo a zero tutte le vasche così insomma ci siamo dando una calmadina e magari intanto va a trebbiare magari un campetto piccolo di patate insomma in modo da zapparsi un po' avanti adesso praticamente si è anche a Drio fare un fia de fien pa e vacche perché le bai e le fien chiediamo poco mentre fai che nemmo una passura nesa terri visto che te be ma ti si in sincronizzazione eh sono in sincronizzazione no se te devi premare le sue vasche finch'entato che mi vendo qua ti te be te a buon e ora adesso coremon del motore che altro che altro caro vissiatore come vedi il campo qua che ne è ancora tanto da fare si potrebbe già iniziare però un tag con un po' garante perché praticamente si manca pieni e i vasche già al 70 siamo stessi? si 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 bisogna sbagliare e anche e anche la boot diciamo la cistana del piso è piena e quindi via assolutamente e che alcuni si mette a smardare il il giudotto praticamente ah bah va bene eh è tutto il risultato che si appena minore entro ehm 2 giù è finito 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 3 giù è finito 3 giù è finito 3 giù è finito 3 giù è finito e niente non mi fa ah ecco allora una ho scoperto allora qua con un SP Turbo XL non mais 280 mila e passa euro madonna ma è quello del mais? come funziona praticamente? e anche la barra del mais perchè in realtà cioè in realtà nella realtà ehm paia e vacca non so che ti metti su che paia fin e il silato anzi va messo tutti i mangimi e il silato addirittura va messo per ultimo va messo anche l'acqua dopo per impastare cioè il gioco l'è fatto molto molto a raso altrimenti il rischio mister seria molto più complessa e anche sicuramente più bella da da fare più reale insomma vi spero che in te il 2015 li metterà almanco eh spereremo vedremo almanco se no anche a fare già i silos che ti passi sotto che ti pareccia già le cose che ti è solo da caricare i silos anche una robetta così ah si come che sei a stazione la di frutta che ti fai tutto quanto si 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 comunque adesso appena che ha finito col fin gli mettiamo trabbiare il campo di ese e fermo imbarare un poca le paglie su da adesso le cose adesso si deve portare a casa il trattore in ceo perchè tanto non serve pila questo è tutto coperto se tu vuoi dare nel tempo che si fermenta vedremo un fiatting tempo ah si aspetta aspetta quante quante io vi ho in mente scarse parcheggio il carton qua puttana 478 uvi in te scarse e petta petta che uvi si mi si spaccati io buono fiamo furtata addio ancora a bara qua se se Tony ci ama e se carne secca questa qua eh va subito tirare via la barra e che due pesi ha perchè mi dico mi tirano le stracche e mi fa fuori appena finisce la sincronizzazione si dai fuori no 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 signora oh sono server free server free e cosa che ti trovavo con l'inghippo qualcosa perchè si sparì mesi boh mino cioè mi non so più entrava eh non più guardavo teoria andavo a resettare comunque vabbè insomma ragazzi adesso andiamo a vendere un fiantino di ovi e poi qua paura anche a far salti più avanti in pianeta e e portiamo a casa le robe che sono a Tony e Coppa e dopo e dopo si mettiamo eventualmente treviare questo campo qua e e dopo andiamo avanti a scaricare il silato così vi farò vedere anche il cat come funziona bene e anzi dopo andremo a vendere anche il cat perchè qua bene un fiantino più c'è perchè tanto non mi serve più buona ragazzi ora intanto finchè praticamente si fa un poco del fien e se trebbe un fiantino il campo numero 10 giusto per manco comunque portarsi avanti un fiantino del paio e un fiantino del frammenton e visto che comunque adesso abbiamo appena attaccato e arpicato anche al 18 qua anzi anche abbastanza bravito perchè comunque è tanto tanto lavoro ma intanto siccome abbiamo le vasche piene tanto fa è sfruttare e non andare a buttare via il fissio praticamente e quindi mi conviene farlo già sul campo qua a volte e dopo appunto è sparsa con l'ermice e adesso qua metà si sa di caproni insomma portandosi quello purtroppo adesso che attacca fanno sfilare come mai detti prima era tutto tutto a posto si esatto fin prima anche a me tutto tranquillo adesso se dovrei andare a infiare in manora tutto infiare diciamo se a ciara proprio da merda eh proprio a seguire che se dovrei trovare fuori adesso tanta anche tanta si 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 tanta ah boh adesso vedete andiamo avanti così fanlet garant e via via io ho visto che se vengono fuori anche bussini nel senso che si sta pubblicando che non deve essere pubblicato sempre solito casinco in questo modo perché ha talmente tanta importanza che a un certo punto si arriva che appena che uno la si è tagliato subito subito a vero il mondo e pacca ma che poi a fine non è neanche completo a modo si perché si è beta questa tra le altre si addirittura mega dito che appunto ieri intenzione di buttarla fuori quindi ha fatto una roba proprio pò di spatto un cappello proprio adesso non so neanche a me perché in teoria riesco ad aprirla vorrei fare anche in questo modo matar via seria possibile anzi e si si ma che se c'è il link sulla pagina dell'aurora team che c'è il link ufficiale la in casa ecco ecco ora potrei eventualmente fare una roba tra qui si 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 ormai questa è diventata libera e ha messo sulla pagina dell'aurora vabbè vedremo come usarla ma comunque se beh ho provato per quello come dettagli e roba si si e dicevo si vabbè vi vabbè vi voglio dire ti vivo? si forse vi voglio dire chichiatro no io ho provosto e qua in queste mappe qua tipo american qua non penso che non lo sia no esatto cos'è il trattore che va in retromarcia da su? cos'è il trattore che va in retromarcia? cos'è il trattore che va in retromarcia? oh, adesso funziona bene ragazzi, intanto diamo anti così, così svoliamo anche un fiantino a cisterna qua, adesso siamo al 0.8% siamo a diricare, prima era piena piena al 100% quindi insomma adesso bisogna andare bene guarda qua i boccettoni dove scorre tutto l'erciume va bene adesso vediamo buona fioia ora come dice Terry praticamente intanto sono andato avanti praticamente spruzzare un poco del piso sul campo, ecco, dicendo molto molto tranquillamente liscia si, liscia praticamente chi mo' porta cisterna al 63% quindi dal 100% che è ieri chi mo' svolta un 40% scarso adesso mettiamo in prova praticamente il nostro caterpillar qua livello di avasca 70% e vedi che praticamente ecco qua 55.000 e praticamente ho cavato un bel un bel tempo che si scarica ora fa un po' prima e così ragazzi praticamente se riesce se riesce scaricare il targhetrio praticamente e carica e va che viene adesso facciamo una prova sempre se non c'è sincronizzazione prima ragazzi penso che se ero di registrare facevo in tempo mancavi un piatto di biwi con ragù salsa sì salsa una bistecca e ero ancora di sincronizzarsi prima devo farvi vedere con quante passate che diciamo si svolta circa una vasca adesso qua siamo 70 ma comunque guarda vedi siamo già tanto avanti ancora più d'Europa quindi mi sa che l'Europa potrebbe anche vendere al massimo se va avanti qua così con il Caterpillar e presto si fa perché comunque l'Europa dopo c'è scarica non scarica sì funziona però a par sempre fin là comunque massimo se puoi comprare DOKCAT eh DOKCAT si e in DOS cos'è l'attimo cos'è l'attimo cos'è tutto a scaricarsi si ferma un attimo si scarica tutto e dopo via eh 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 che ho detto eh che ho detto anche a me eh ecco ragazzi eh i Fend724 i Seracavai proprio tolti detto in italiano per far capire anche a tutti perché continuano sti problemi qua gente non non smonta eh o perché siete smenti che una volta o anche se però se ben che che viene detto e ripeto ancora il Stensile Trattore eh ogni volta perdo tempo con la sincronazione mi perdo via proprio le ore eh a questo punto il cavo siamo a posto così si alleggerisce anche il pack per altre nuove mod come trebbie e e altre robettine insomma comunque il pack si ragazzi altissima percentuale bella 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 altissima percentuale che il pack verrà verrà rifatto verrà proprio rifatto e proprio modificato proprio mod e anche un mod che anche comprai non importa verrà modificare però adesso non so 10 puntate che manca 10 e 15 puntate per finire la serie americana qua e adesso non so se fare un pack per 10 puntate o andare avanti così come che siamo era piccato per questo comunque anche per server free eh il pack mio sia american che ulteriori mappe future sarà sempre comunque quello sì non sono mia cinquanta mia fa che sennò diventiamo e non è un casino per niente e avanti questo sincro e ora ragazzi finì a sincro dopo due ore comunque andiamo avanti vediamo il 30% adesso 25 e che ne è giusto 150 mila vuol dire 5 10 15 con altre tre passate questa vasca qua la sua voda mentre che altre volte eh rimetteremo una passura e tempo cioè guarda no ma fa differenza sarà un pochino di due modo 2 da 55 mila meglio ancora 5 5 10 un altro 5 10 viene fuori in totale 100 10 al colpo che va via quindi presto si fa buona ragazzi adesso qua gli altri consigli andiamo avanti e prossima puntata finiremo e farò la registrazione diciamo che se finisse eh praticamente il è il campo di sdotto e andremo avanti comunque eh tu da treviature che altri campi che sei colza che sei un muccio da roba che sei ancora da comprare un paio di John Deere e resta ancora cosa dopo cosa resta? eh resta mh beh resta da finire anche il campo del silato quello grande si no no dico da acquistare in mesi ah da acquistare mesi eh e che ne se ancora ad esempio eh le t9 che si anche quello si e i i John Deere quel cingolato si quei dopo i dei John Deere no breve forse due o tre puntate avrà tolti penso i John Deere nuovi qualche campo dopo si può dare a torre la classe bianca anche quella si può dare a torre fardo classe casomai vendere mari a case eh torre il caro Furman torre Furman torre ravizza quello rosso e bianco si andare ragazzi andare un po' su completezza delle cose ormai è che c'è anche è imbarattrice di Acrone quella che costa cento e trentamila si anche va bene ma seguiamo quella da John Deere che funziona anche anche bene vabbè tanto per provarla dobbiamo proviamo e vendiamo a toni la coppa fa fare ordini che dopo che tocca portarla e rivendela e ne sbraita il rio che va comunque ragazzi visto vasca svuotata neanche tante passate è fatto anche abbastanza presto quindi pensavo essere in 2 rispetto a prima praticamente prima si faceva esattamente il doppio delle passate e già vuol dire che cosa lo diminuivo anche ragazzi anche il presso anche per distinguerlo da che altro comunque e niente adesso verrà svuotata ancora sta vasca qua e dopo praticamente eh praticamente verrà verrà ripartimo col silato comunque mai più campi così grandi per il silato perché no se troppo che vuoi roba più tranquilla che vuoi che vuoi che vuoi niente density sui campi su un campo così grande no sì density ma ora otto è abbastanza grande che riesce a gestire tutto è ma io rendi a pensare la density e chi va anche in cucca bene mi vuoi dire perfettini perfettini cazzo vabbè intanto abbiamo visto un pochi dei saluti dei nostri operai qua che lavorano e beh mi raccomando stiamo bene usare sempre il test usare sempre il cervello e nei server nei partiti sui mesi metti via dentro fai come in realtà in realtà se il trattore impiantai sul campo no c'è buon da fmarco 95 il nostro amico terry è tutto da venezia mi raccomando fasi bravi che sbori poco adesso che altri a qualta chi era un po' a venezia a qualta a qualta un po' no non chi era a qualta perchè non c'è prevision e il sbori come chiamai iori che sarei e il vento quello scirocco ecco io chiamo a sbori va bene seudo ciao a tutti e al prossimo ciao ciao